Primo tempo Torino contro BPC Raiano No, non mi no Bajolini Bajolini 2-0 per loro, cosa si deve fare secondo te? Sta da correre Perché siamo proprio a zero Fisicamente Siamo a zero, finalmente è arrivato a volerlo Con l'accambio e con la punta titolare Cerchiamo di mettere due gol, che si può fare Due gol si può fare Grazie in bocca al lupo per il secondo tempo Andiamo da qualcuno Cento mani Cento mani Ottimo Andiamo di 2-0, ottimo partita da parte vostra Cosa si deve fare nel secondo tempo? Dobbiamo rimanere sempre concentrati Non dobbiamo mollare perché loro sono organizzati E dobbiamo continuare a giocare Grazie in bocca al lupo per il secondo tempo Ci vediamo dopo in Torino contro BPC E' una migliore mattina che sta affermando in Sì Vincito con l'ilassaggio E' una prima volta che si è ristralizzato E' una prima volta che si è ristralizzato Ma è questa migliore lezanzia È un secondo tipo di cosa C'è un giro Quando ci è lato fisicamente zero Non sono aumentato il campo Non è aumentato il campo Non è aumentato il campo Non è aumentato il giro E' un giro E' un giro E' un giro Ok, c'è un giro Aspetta E' un giro per il secondo titolo per il secondo per il secondo per la passaggio di questo per il secondo grazie caro adesso passiamo al piede per una grande partita per il secondo bellissimo se il Torino mi oggi ha giocato veramente bene e volevo dire solo che ho giocato tutti veramente bene soprattutto Nico che a mio parere è una delle chiavi debili anche se oggi ha giocato un po' più indietro si è stato un po' egoista oggi però è sempre un bravissimo ragazzo e soprattutto molto bravo lo stesso voglio dire di Caliano che è stato molto bravo anche lui molte rete stasera volte se ne ha mangiato però più o meno avete fatto una bellissima partita alla squadra avversaria anche se si vedeva il calo fisico di stasera però soprattutto nel secondo tempo si è abbastanza e chi vuole dedicare il gol e la prestazione? a Luisa grazie e buongiorno ciao ragazzi